New Entry al Grande Fratello Vip. La sesta edizione del programma è stata allungata da Mediaset fino al prossimo marzo. L'azienda di Cologno Monzese è soddisfatta dei risultati raggiunti da Alfonso Signorini e il suo team. L'allungamento prevede dunque l'ingresso in scena di nuovi concorrenti. Stando a quanto spifferato da tv blog nella casa più spiata d'Italia entreranno tra fine novembre e dicembre quattro nuove gfine. Tutte donne e tutti di chi stiamo parlando? Dell'attrice Patrizia Pellegrino. Della subrette Nathalie Caldonazzo. Di Valeria Marini e Maria Monzè. Per quest'ultima sarebbe un ritorno nel bunker di Cinecittà. L'ex ragazza di Nonela Rai ha già partecipato alla terza edizione della trasmissione. Andata in onda nel 2018. Per Valeria Marini si tratterebbe invece della terza volta al Grande Fratello Vip. La showgirl che qualche mese fa è stata protagonista all'Isola dei Famosi Spagnola è stata tra i concorrenti della prima edizione trasmessa nel 2016 ed è poi tornata in gioco alla quarta edizione in onda nel 2020. Per Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo sarebbe invece un debutto al Grande Fratello Vip ma non la prima volta in un reality show. Entrambe hanno partecipato all'Isola dei Famosi. La Pellegrino nel 2004 mentre l'ex compagna di Massimo Troisi era nel cast del 2017. La Pellegrino nel 2004 è stata creata per la prima edizione di Massimo Troisi. La Pellegrino nel 2004 è stata creata per la prima edizione di Massimo Troisi. La Pellegrino nel 2004 è stata creata per la prima edizione di Massimo Troisi. La Pellegrino nel 2004 è stata creata per la prima edizione di Massimo Troisi. Grazie a tutti.